Grazie Stefano, grazie a tutti per l'invito. Io rappresento una voce tra un gruppo di persone che si è mobilitato in quell'occasione in naufragi meno noti, ma che da diversi anni si sosseguono interrottamente nel Mediterraneo, però anche qui proprio tra il pubblico ci sono persone che fino ad oggi stanno dando una mano ai familiari delle vittime delle frontiere, in particolare della strage di Stato, di Cutro. Le parole di Nawal sicuramente che ricostruiscono un po' la cronaca di quello che è successo in Grecia restituiscono una delle dimensioni delle necropolitiche di frontiera che è quella appunto delle omissioni di soccorso, ancora prima quella dell'impedire di viaggiare in maniera sicura dall'altra parte del Mediterraneo, ma forse una delle dimensioni che in qualche modo caratterizzano i vari luoghi di frontiera ed è meno attenzionata, meno studiata, meno sentita, è quella che colpisce in maniera altrettanto violenta i familiari delle vittime della frontiera, cioè coloro che sopravvivono, coloro che restano, coloro che testimoniano quello che viene dopo, sopravvissuti ma anche appunto madri, padri, sorelle, fratelli che come a Cutro ma anche appunto nei naufragi in Tunisia ma anche ora in Grecia si stanno mobilitando, stanno accorrendo nel luogo della strage per poter ricercare i propri cari e quello che accade sempre è che queste persone vengono abbandonate dallo Stato, non sono minimamente supportate in quello che è appunto tutte le procedure di ricerca, identificazione e rimpatrio delle salme. Questo l'abbiamo visto tutti a Cutro, anche chi non c'era perché le scene diciamo violentissime che si sono susseguite in vari spazi di Cutro e di Crotone, dal Palamilone dove quelle bare sono state abbandonate per giorni e giorni, abbiamo raggiunto più di un mese alla spiaggia fino appunto alla cittadina di Cutro, al comune di Cutro dove abbiamo visto la passerella politica diciamo che ripetutamente le famiglie hanno dovuto ulteriormente rivivere quelle mancanze sistematiche e quella violenza della frontiera. Sappiamo che la frontiera si fonda su appunto un regime di negazione delle esistenze, di negazione della vita, di negazione delle traiettorie di vita, delle storie personali, dei diritti, della libertà di movimento, ma è anche una negazione della morte, è anche una negazione del riconoscimento della morte perché il riconoscimento della morte significa ammettere le responsabilità politiche che ci sono dietro a queste strage, per questo per noi è una strage di Stato. In quei giorni voglio soffermarmi in particolare su una cosa e cioè sulla lotta portata avanti dai familiari, non abbiamo fatto nient'altro che sostenerla, quindi poter avere la possibilità di riconoscere un corpo, poter pregare quel corpo, poter decidere dove rimpatriarlo, anche se il governo italiano aveva deciso che tutti i corpi dovevano scomparire alla vigilia dell'arrivo di Meloni a Cutro. C'è stata una lotta fortissima che è durata fino alla notte in cui i familiari si sono seduti, sdraiati fuori il cancello del Palamilone e hanno impedito l'uscita delle bare perché non volevano appunto che quelle bare fossero nascoste. La Luma, una delle figlie di queste vittime, ha detto proprio che la vostra Presidente non vuole venire qua perché non vuole sentire l'odore della morte e quindi bisogna nascondere. E' questa la frontiera, molto banalmente, ma questa parte qua della morte, del non riconoscimento della morte e dell'identità viene totalmente cancellata ed è stato solo grazie appunto alla lotta delle famiglie che si sono imposte rispetto a quello che era di nuovo un controllo dello Stato anche sui corpi nella morte, non solo nella vita, cioè l'impossibilità di migrare ma anche l'impossibilità di essere riconosciuto con un nome e non essere soltanto un numero, l'impossibilità di essere seppellito nella propria terra d'origine, quindi in questo caso l'Afghanistan soprattutto. Contro questo le famiglie si sono schierate, per noi è stato un privilegio, un onore stare accanto alla lotta di queste famiglie, non lasciarle mai e sostenerle anche quando appunto le stesse forze dell'ordine diciamo si sono schierate contro di loro perché si sono poste in maniera più aggressiva dopo giorni di abbandono. Come Mehmed quello che diciamo abbiamo visto perché va sempre ricordato che queste stragi qua, quella di Cutro, quella della Grecia, quella di Meliglia che tra pochi giorni sarà un anno dalla strage di Meliglia dell'anno scorso, sono le poche che purtroppo escono all'attenzione di tutti noi per una questione di numeri, però ci sono tanti naufraggi minori, cosiddetti naufraggi fantasma che capitano continuamente e sono tante le richieste delle famiglie che vogliono sapere dove sono i loro cari, se i corpi sono arrivati, se non sono arrivati, se sono imprigionati dentro un CPR, in un hotspot, se sono stati privati della libertà e come Mehmed ci impegniamo proprio per questo, soprattutto sui naufraggi minori e a proposito di questo, prima anche di lasciare la parola a Binto che sicuramente può meglio raccontare quello che questo significa, vorrei ricordare soprattutto i naufraggi della Tunisia, quelli che riguardano la Tunisia ed è proprio in questi mesi che stiamo vedendo un aumento delle partenze a causa di una serie di ragioni per lo più legate alla questione economica ma anche politica dello Stato tunisino che è una vera e propria dittatura ormai, che dal discorso del 21 febbraio del Presidente ha sostanzialmente legittimato uno Stato, un razzismo di Stato, quindi una violenza a tutti gli effetti contro le persone subsahariane. Sono tantissimi i naufraggi che in questo momento si susseguono nelle acque tunisine e tantissime le famiglie che vengono abbandonate senza alcuna risposta impossibilitate sia delle autorità nazionali che da quelle internazionali che avrebbero l'onere di assistere le famiglie in questo a riconoscere i propri cari. La violenza di queste morti è molto emblematica anche della situazione geopolitica attuale perché l'Italia finanzia la Tunisia e soprattutto abbiamo visto gli ultimi incontri politici tra la Presidente Meloni e il Presidente tunisino e non è ora ma sono diversi anni che l'Italia sta sostenendo economicamente la frontiera tunisina, il controllo della frontiera tunisina affinché le persone vengano bloccate. La situazione in Tunisia è particolarmente grave ed è lì soprattutto che in questo momento ci sono tantissimi naufragi che non vengono raccontati e su cui abbiamo il dovere di portare la nostra attenzione proprio appunto con l'urgenza di mantenere viva e di costruire una memoria mediterranea con le persone appunto vittime delle frontiere, sopravvissuti e quelli che lottano ogni giorno per oltrepassarle.